Pace bene, siamo con il secondo anno del corso di filosofia e teologia che si tiene a Campobasso. Questi studenti sono frati postnovizi e si stanno preparando al sacerdozio, alcuni, o comunque ad aumentare le loro conoscenze teologiche e filosofiche per poter poi servire il popolo cristiano. Da due anni nel corso di filosofia e teologia che si tiene a Campobasso è stato inserito il corso di comunicazione sociale, teoria e tecniche della comunicazione. Ebbene loro hanno terminato il corso e oggi siamo qui negli studi di Padre Pio TV per fare uno stage pratico e credo sia per tutti loro un'esperienza davvero bella e importante. Pace bene, mi chiamo Fra Roberto, vengo da Avellino e alla fine di questo corso la cosa che mi è rimasta è questa, che ogni uomo è chiamato a comunicare. Quindi ogni cristiano in modo particolare deve diffondere il messaggio evangelico. Pace bene, mi chiamo Fra Stefano. Ciò che mi ha colpito oggi è aver potuto conoscere questa realtà che si impegna a far conoscere, a diffondere il bene e credo che sia il coronamento di quanto abbiamo detto nel nostro corso. Pace bene, sono Fra Giuseppe e sono tante le cose che mi hanno colpito di quello che è stato detto oggi ma nel corso anche dell'anno scolastico. Credo in sintesi che ciò che rimane è l'importanza della comunicazione su più fronti ed è importante anche capire chi è dall'altra parte e capire come ci sta ascoltando per arrivare poi al fine diciamo di ciò che si sta dicendo e per poi realizzare quello che si sta dicendo. Quindi la comunicazione credo tra le cose più importanti che insomma dobbiamo capire e mettere in atto. Pace bene, sono Fra Giuseppe, ho 28 anni, vengo da Mondescaglioso e noi abbiamo da annunciare un Vangelo, il Vangelo di Gesù Cristo. E quindi per me, per noi tutti è importante comunicare. Pace bene, sono Fra Antonio e vengo da Manfredonia. Alla fine di questo corso e anche diciamo alla luce di quello che ci siamo detti prima in un incontro fatto poco fa, quello che diciamo sento di lanciare come messaggio è che in un mondo diciamo oggi così difficile soprattutto per quanto riguarda diciamo il mondo giovanile da parte della Chiesa è molto importante sapere come comunicare e quindi individuare i mezzi e gli strumenti adatti per diciamo diffondere il Vangelo ai giovani nella maniera più grande possibile. Però diciamo la cosa più importante che mi va di dire è che penso che è condivisa da tutti che il corso di teoria delle comunicazioni sociali è il più importante che si debba fare in tutto il corso degli studi. Bravo Antonio, ti sei assicurato il 30 con questo che hai detto perché faremo l'esame, fra poco siamo in tempo di esami. Va bene però a parte questo la cosa importante è che oggi davvero bisogna essere competenti nelle nuove tecnologie, nell'uso consapevole dei media di cui disponiamo e soprattutto bisogna avere un messaggio da comunicare, un messaggio forte perché il problema è che oggi magari molti comunicano ma non hanno un messaggio da comunicare. Noi abbiamo il Vangelo, quindi abbiamo il messaggio, dobbiamo imparare sempre meglio ad usare gli strumenti che la nostra società ci mette a disposizione. Questo binomio, messaggio, quindi contenuto e forma gli strumenti da utilizzare, se vanno a braccetto, se li sappiamo utilizzare tutti e due bene, sicuramente il messaggio cristiano diventerà sempre più efficace in questa società che ha tanto bisogno di conoscere il Vangelo.